Buon ragazzi 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 E benvenuti in questo nuovo video Lui è Vittorio e il mio cugino l'avete visto in parecchi video E lei è Aurora ovviamente E oggi siamo qui per fare la tortina di marshmallow Grazie Allora la corrente è M&M Ciotoline Non lo faccio Ovviamente non lo faccio così non lo fai E marshmallow Non lo fai? Ok basta Allora poi voglio fare un avviso Domani sempre insieme a mio cugino Ci sarà un video sempre di marshmallow Però sarà un video molto appiccicoso Ok basta Ok basta Siamo pagherà gelato a queste cose Allora incominciando Premendo Prendendo gli ebemans E aprirli E li versiamo nella cettolina Ecco qui E' un mangione assurdo Poi ne voglio uno Poi E vabbè C'è un altro Allora poi Non accadono E' un po' scemo Poi come seconda evidenza Comandonezza Sono i marshmallow Alcuni C'è Un zoni grandi Però io ho deciso di usare i piccolini Di tiger Che sono più carini E ora vai Prendi un cucchiaio E li mettiamo dentro Cioè non è che li guardiamo Dobbiamo ricoprire Gli ebemans Gli ebemans Aspetta ce la posso fare Gli ebemans Di marshmallow Io uso i piccolini Perché secondo me Viene molto più carino Guardate Ecco qui Ne mettiamo altri due qua E poi il mio E' completato Guardate che carina Mi piace molto Beh E' uno me lo mangio Tu no Non l'hai autorizzato Già l'ho mangiato E' bene così Sì va bene Ok 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 Queste Sono le nostre tortine Ma non finisce qua Non pensate che saranno queste Perché così Sarebbe inutile Mangiare così Marshmallow Gli ebemans Ora noi Gli andiamo a mettere Nel microonde Per uno o due minuti In modo che si scioglieranno Un pochino Forse anche un pochino di più Così ci sciogliano Un pochino di più Non lo so Però penso uno o due minuti E l'assaggeremo Perché dovremmo mettere Una tortina carina L'è goloso Quindi si mangerà tutto E ora Andiamo al microonde Ok Ora mettiamo Tortine Nel microonde Tu non puoi gallina Perché no Fatti via Per solo la gallina Dalla gallina Ciao Andiamo Per perdermi E lo mettiamo Perfumuto E lo facciamo stare Yeah Che è successo È scoppiato tutto Guarda Fuori da Mollo Mollo Tiriamo fuori Ed ecco I nostri Tortini I nostri Tortini al marshmallow Completate Sono Guardate Sono me Saranno squisite Pecci cose Le assaggiamo Massaggiamo Sono strappicci cose E anche Bustra bollenti Massaggiamo Il marshmallow Sciolti Guardate Guarda Guarda qua Buoni Per la collari Un applauso per Vittorio Aurora Allora Vai guardate Sotto Ma tutto il cioccolato È uscito È buonissimo È buonissimo Il cioccolato Sciolto come Scimello È uscito Sembra tipo La graffa No È buonissimo Vota 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 10 e lode Votate nei commenti Hashtag 1 2 O 1 2 E mettete il vostro voto Da 1 a 10 E ovviamente Provatele a fare Quindi ragazzi Spero che questo video Questa tostina Se l'avete fatta Vi sia piaciuto Lasciate un bel like E iscrivetevi al mio canale E iscrivetevi al mio canale Al prossimo video Ciao